24 agosto 2020. Muore a Roma il giornalista e scrittore Arrigo Levi. Originario di Modena, classe 1926, inizia la sua carriera giornalistica in Argentina, paese in cui si era rifugiata la sua famiglia per sfuggire alle persecuzioni razziali del regime fascista. Rientrato in Italia, Levi lavora per diverse testate, conducendo dal 1966 al 1968 il telegiornale. In Rai è protagonista di numerosi programmi televisivi, come Tantam, Punto 7, Emozioni TV, gli archivi del Cremlino, C'era una volta la Russia. Grazie a tutti.